Una collega, un'amica per me da tantissimi anni, è una guida turistica, quindi un settore particolarmente colpito da questa situazione, dall'emergenza ed è probabilmente un caso raro di archeologa, non solo quindi guida turistica, storica dell'arte, ma proprio archeologa, quindi con una competenza specifica legata al tema dell'archeologia e anche della Firenze, fuori dagli stereotipi, fuori dal racconto ormai un po' così iconico del Rinascimento e quello che ci propone oggi, come avete visto dal titolo, è un'osservazione sulla Firenze prima di Firenze, quindi ciò che per gli stranieri è inconcepibile che sia esistita Firenze, quando c'erano ancora i turisti dovevamo spiegargli che esisteva anche Firenze prima del Rinascimento, prima di Lorenzo il Magnifico e prima di Botticelli, in realtà ovviamente noi sappiamo che Firenze ha un passato lungo, è stato un posto rilevante legata anche poi a Fiesa, agli Etruschi e quindi proviamo a scoprire che cosa ci racconta Firenze prima di Firenze. Come tutte le altre volte, la videoconversazione di oggi è registrata, quindi la potete riguardare per chi l'ha persa o per chi volesse rivederla sempre sul canale YouTube, sarà disponibile a partire da martedì o mercoledì della prossima settimana. Rubina, a te. Chiedo a tutti di disattivare i microfoni, ma avete già disattivato tutto, domande virtualmente usiamo la chat e possiamo partire. Grazie Rubina. Bene, allora intanto ti ringrazio Chiara per questa introduzione, saluto tutti quanti, ti ringrazio particolarmente perché appunto come Chiara mi ha presentato sono un'archeologa e anche una guida turistica e quando mi ha chiesto appunto scegli un tema, una tematica che ti piacerebbe raccontare, io ho pensato immediatamente all'archeologia, primo perché è il mio primo grande amore, ma secondo è perché è quella cosa che è difficile far vedere quando siamo fuori con un gruppo, è assolutamente quasi impossibile far vedere addirittura la città romana che però ancora in parte esiste sotto il selciato di Firenze, ma è impossibile da vedere quello che c'era prima e quindi questa possibilità di parlarvi di archeologia per me è stata una grande gioia, diciamo così. Allora intanto appunto mi ripresento, mi chiamo Rubina e appunto nella mia esperienza di guida turistica una delle cose che spesso mi viene chiesta quando sono in giro per il centro storico è ok sappiamo appunto di Firenze rinascimentale, sappiamo delle bellissime chiese, dei bellissimi palazzi, ma sappiamo anche pochissimo qualcosa si sa della Firenze romana, ma la grande domanda è ma prima dei romani cosa c'era qua? Chi c'era? C'erano delle popolazioni che vivevano qua? E chi erano se c'erano queste popolazioni? E quindi da questa domanda che mi viene tutte le volte posta, oggi cerchiamo proprio di capire chi c'era a Firenze prima dei romani, quindi prima della città. E iniziamo, ora condivido con voi un powerpoint perché ci insomma mi aiuta a raccontarvi proprio perché è impossibile vedere la città e quel che rimane degli abitati precedenti alla città romana e quindi iniziamo questo cammino. Oggi parleremo di Firenze prima di Firenze perché Firenze, il nome Firenze è legato, poi questo lo vedremo alla fine, ma è legato alla fondazione della colonia romana nel primo secolo avanti Cristo, quindi prima di questa città, prima di questa colonia romana che cosa c'era? E qui bisogna partire da lontanissimo, ora mi rendo conto che questo arco cronologico è veramente molto lungo ma è fondamentale per capire che cosa c'era in questo territorio nella Valle dell'Arno. Vi ho messo nella parte alta una forse per voi noiosissima immagine di una linea del tempo, però se la guardate con più attenzione secondo me vi può affascinare moltissimo. Guardate questa linea del tempo, vedete questa preistoria che è un periodo lunghissimo che va da due milioni di anni fa fino circa i 5 mila anni fa, è un piccolissimo pezzettino che si chiama storia e che inizia a partire dal 3000 avanti Cristo. Perché il 3000 avanti Cristo? Perché è quando diciamo che l'uomo inizia a inventare la scrittura e quindi con l'invenzione della scrittura si dà inizio a quella che è definita storia. Per noi quella che interessa, per noi per la storia del popolamento umano nella Valle dell'Arno, il periodo che interessa nello specifico è l'età dei metalli. Cioè è un periodo che inizia circa 3500 anni avanti di Cristo e che era caratterizzato dalla possibilità che gli uomini avevano trovato di lavorare minerali e dei metalli. Come vedete, in questa età dei metalli, vedete cerchiato il rosso in questa mappa che per me è affascinante perché è la mappa che rappresenta la presenza umana nella Valle dell'Arno tra Prato e Firenze con i vari complessi insediativi, le aree sepolcrali, i siti produttivi e solo siti di pura frequentazione, ma ecco che vi ho cerchiato due luoghi che conoscete benissimo perché sono Firenze e Fiesole. Perché li ho cerchiati? Perché in questi due luoghi è stato trovato da parte degli archeologi alcuni frammenti ceramici datati di età dei metalli, quindi datati più o meno terzo, secondo secolo, scusate, millennio avanti Cristo. Quindi si sa archeologicamente che in questi luoghi già alla fine del terzo millennio, inizio, secondo millennio avanti Cristo, probabilmente c'erano degli abitati. Per gli archeologi la ceramica è fondamentale perché se si trova ceramica in uno scavo c'è l'indizio che qui ci fosse appunto un insediamento, ci vivesse qualcuno perché la ceramica serviva per costruire ciotole, recipienti, oggetti e manufatti per l'uso quotidiano. Quindi Fiesole, Firenze restituisce alcuni scavi materiale di terzo, fine terzo, secondo millennio avanti Cristo. Quindi stiamo parlando di veramente tantissimo tempo fa, quando appunto Firenze, ma nemmeno lontanamente, si poteva immaginare della sua esistenza. Allora, questa è una mappa altrettanto interessante perché rappresenta come era la valle dell'Arno proprio nel secondo millennio avanti Cristo. Infatti noterete che c'è una stellina rossa in un punto molto preciso, vicino, molto vicino al corso dell'Arno che come vedete era un corso assolutamente non regimentato in un letto preciso, senza argini, ma infatti noterete che il corso in alcuni punti nel lato sinistro vedete ci sono altri corsi paralleli, ci sono degli isolotti, quindi era un corso molto ampio e tra l'altro con tutta una serie di affluenti, quelli che vi ho segnato sono quelli maggiori ma ce n'erano molti di più, vi ho segnalato a sinistra il Terzolle, il Mugnone e il Fosso di San Gervasio sulla destra. Però appunto quello che a noi ci interessa, maggiormente è quella stellina rossa, perché? Perché quello è il punto dove nel secondo millennio probabilmente un primo nucleo di esseri umani si è insediato e ha costituito un villaggio, un piccolo villaggio e se notate con attenzione questa stellina rossa è posizionata proprio nel punto in cui il corso dell'Arno risulta più stretto e questo è fondamentale, che poi vi vado a raccontare il perché, ma volevo anche farvi notare che questa caratteristica di corso di fiume ampio con corsi paralleli, con isolotti, zone paludose, vari affluenti che sia sul lato al nord che a sud arrivano verso il fiume è una caratteristica che noi ritroviamo fino al 500. Quella che vi ho messo sotto è un'immagine molto interessante perché è una carta che Leonardo da Vinci ha dipinto intorno al 1503-1504. Gli fu chiesto dalla Repubblica di Firenze di fare uno studio, proprio uno studio di fattibilità per arginare una problematica che presentava il corso dell'Arno all'altezza di Signa e Montelupo, cioè la cosiddetta stretta d'Arno. In quel punto l'Arno era ed è tuttora molto stretto, quindi il flusso dell'acqua è molto veloce, rapido e quindi la navigazione è impossibile, si chiede a Leonardo di studiare la fattibilità di un canale parallelo che potesse navigabile, che potesse in qualche maniera permettere la navigazione anche in quel punto. La cosa interessante è che, come noterete, in questa carta che è della zona tra Barlungo e Roghezzano, il fiume si presenta anche in questo caso nel 1530, a distanza di migliaia di anni, con zone paludose, isolotti e una serie di torrenti e affluenti. Questo tra l'altro è la ricchezza di Firenze, perché il fatto che la città di Firenze poi in epoca medievale si sia sviluppato grazie a principalmente, o perlomeno nella fase iniziale, alla lavorazione anche della lana, e il fatto che per lavorare la lana servivano mulini, qualchiere, opifici udraulici, ecco, soltanto con un tipo di fiume di questo tipo si poteva costruire tutto quell'insieme di opifici che potevano poi, diciamo, permettere la lavorazione e produzione della lana. Ma torniamo al secondo millennio avanti Cristo e alla nostra stelletta rossa. Vi dicevo che quello è il punto dove tutto ha inizio e, come avete notato, è il punto dove il fiume è più stretto. E guardate queste due immagini, che per me sono veramente, ecco, affascinanti, perché gli archeologi cosa hanno fatto? Hanno ricostruito il fiume come si presentava nel secondo, primo millennio avanti Cristo, nel punto esatto dove oggi esiste il Ponte Vecchio. Quindi il corso del fiume che scendeva e sulla riva destra un piccolo villaggio di Capanne. Questo fiume in questo punto quindi era guadabile, cioè si poteva attraversare, era fondamentale per mettere anche in comunicazione le due sponde e anche vari assi diari che da, per esempio, Volterra o comunque dalla costa, diciamo, raggiungevano l'Appennino e in questo punto, appunto, era possibile passarlo il fiume. Il Ponte Vecchio è stato costruito su i resti, diciamo così, di ponti precedenti. Si sa, per esempio, che già in Epoca Romana, qui c'era un ponte che non era un ponte di pietra, ma era un ponte con le pile di pietra, ma poi tutto l'impalcato era costruito in legno, come accadeva sempre perché il fiume era un fiume con un andamento torrentizio, quindi molto pericoloso, lo sappiamo bene, nel 66 c'è stata l'ultima grande alluvione, tutti i ponti annualmente venivano buttati giù, fino dall'epoca romana. Ponte Vecchio invece venne finalmente costruito in pietra dopo la piena del 1333 e prende proprio questo nome di Ponte Vecchio perché è il primo ponte di Firenze costruito in pietre. Quindi ecco, i primi abitanti della Valle dell'Arno, del secondo primo millennio avanti Cristo, scelgono questo punto per motivi strategici. Andando avanti, finiamo a parlare, anzi arriviamo a parlare a un luogo simbolo, perché quella stellina rossa di che vi avevo fatto vedere all'inizio, quella stellina rossa più o meno segna il punto dell'attuale zona fra San Giovanni, Piazza del Duomo, Piazza della Repubblica e Via por Santa Maria. E qui io vi ho messo le immagini di una piazza, Piazza della Repubblica, che è fondamentale per poi quella che sarà tutta la ricerca archeologica e quindi anche storica della Firenze prima di Firenze. Vi ho messo tre immagini, quella in alto a destra è un'immagine abbastanza recente della piazza, come la conosciamo tutti quanti, con però delle murature che affiorano. In questa foto, quando ho scattato questa foto, si stava ripavimentando la Piazza della Repubblica, quindi nel momento in cui levano le pietre vecchie, levano un primo strato di terra e subito emergono queste murature, che sono murature di epoca medievale. Poi ovviamente in epoche passate lo scavo è andato ancora più in basso e ha tirato fuori la città romana. Ma ecco, le altre due foto secondo me sono assolutamente affascinanti, perché sono l'immagine di come si presentava Piazza della Repubblica prima del 1892. Voi sapete che Firenze è stata capitale del Regno d'Italia, tra il 1865 e il 1871. In questo grandioso progetto di capitale ovviamente c'era anche un grandissimo progetto di risanamento del centro storico, sappiamo anche che le mura della città medievale di Firenze furono abbattute per costruire viali, per dare spazio ai nuovi quartieri dei funzionari, dei ministeri che si trovavano a Firenze. Così, per darvi un'informazione in più, i palazzi storici di Firenze furono trasformati in ministeri e il Parlamento si riuniva nella Salone dei Cinquecenti di Palazzo Vecchio. Questa area di Firenze, Piazza della Repubblica, era la zona del Mercato Vecchio ed era una delle zone più povere, più problematiche sia dal punto di vista sanitario che sociale di tutta la città. Era un quartiere caratterizzato da vicoletti, piccoli chiassi, alcune piccole piazzette, case torri, palazzi antichi ed era anche la zona del ghetto ebraico. Bene, questo quartiere va buttato giù, questo mercato va spostato, perché? Perché il centro storico di una capitale, di un regno non può essere così. Quindi nel 1892, un po' in ritardo rispetto alla Firenze capitale, ormai la capitale era già stata spostata a Roma, si iniziano i lavori di abbattimento, di spostamento del mercato, ma anche tutti i vari lavori per creare le fondamenta dei nuovi palazzi delle gallerie. Una piccola curiosità vi voglio anche raccontare. Se guardate nella foto in basso a destra, quella che ha in primo piano la colonna con la statua dell'abbondanza, che ancora si trova in loco, esattamente in quel punto, e che sta a indicare il punto in cui le due strade principali della città romana, il Cardo e il Decumano, si incontravano. Ma quello che a me interessa farvi notare è quella loggia che vedete sulla sinistra. Quella loggia che vedete sulla sinistra in realtà non è stata distrutta, ma è stata smontata e rimontata in Piazza dei Cionpi, ed è la famosa loggia del pesce. Quando ci passerete davanti, notatelo, ci sono dei tondi con varie tipologie di pesci. Bene, quella era la loggia del mercato del pesce, che a sua volta era stata spostata in Piazza della Repubblica da un'altra piazza, da una piccola piazzetta che si trovava vicino al Ponte Vecchio, in quella che tutt'oggi si chiama Piazza del Pesce. Come magari sapete, il mercato, diciamo uno dei mercati di Firenze era proprio sul Ponte Vecchio. C'erano i verdurai, c'erano i macellai, c'erano anche i pesciaioli, in questa loggia in Piazza del Pesce. Quando la famiglia dei medici compra il Palazzo Pitti e trasferisce la corte dal Palazzo Vecchio al Palazzo Pitti, il mercato ovviamente non può più stare sul Ponte Vecchio, non se ne parla neanche, immaginatevi se la corte per spostarsi tra il palazzo, la reggia e il Palazzo Vecchio, che comunque rimaneva il luogo della politica, poteva passare da un mercato, quindi gentilmente invita i verdurai, i macellai, i pesciaioli a spostarsi in piazza, nella zona della Piazza della Repubblica e invita i gioiellieri e l'argentieni sul Ponte Vecchio. Fatta questa breve digressione, torniamo alla nostra Piazza Repubblica e al momento di questi famosi scavi del 1892, quindi si dà avvio alla costruzione delle logge, quelle che vedete nella foto in alto a destra, quelle logge, soprattutto quelle di destra, regalano una serie di scoperte assai interessanti e qui vi ho messo due foto d'epoca. Nello specifico è il punto in cui esisteva una vecchia birreria, la birreria Gambrinus, qui c'è una foto fantastica d'epoca di come si presentava la birreria Gambrinus prima dei rifacimenti e appunto iniziano questi scavi per costruire la nuova galleria, il nuovo cinema-caffè Gambrinus e ecco che a un certo punto durante questi scavi gli operai si imbattono in qualcosa di assolutamente misterioso. La città romana la stavano già tirando fuori da Piazza della Repubblica e anche da queste zone, qui avevano trovato alcune colonne, ma sotto a questo strato di colonne di epoca romana ecco che gli operai si imbattono in un oggetto misterioso. Nella foto di sinistra vedete che c'è tutto un folto, un nutrito gruppo di persone tra operai, probabilmente l'uomo a sedere sulla sinistra su un muro vestito di chiaro e un operaio, ma molto più affascinante e divertente, sono questa stiera di, direi, borghesi con le loro tube, i bastoni, questi cappottoni neri affascinati e attratti da questo misterioso oggetto, che è uno ziro o comunque meglio tradotto in altri termini, una grossa ceramica, un grosso contenitore ceramico tappato con una lastra. Quando gli operai vedono questo oggetto, invece di distruggerlo si pongono il quesito, ma questo oggetto potrebbe contenere qualcosa di molto prezioso, quindi non distruggiamolo, otteniamolo, a quel punto la commissione in carica comunale storico-artistica che era, diciamo, seguiva questi scavi, chiama una, chiamiamola così, chiama una cooperativa archeologica, anche se insomma non erano proprio veri e propri archeologi, e si dà avvio a uno scavo sistematico e da questo scavo, proprio qui all'angolo fra via dei Vecchietti, via del Campidoglio, via Brunelleschi, all'altezza del Gabrinus, ecco che viene fuori qualcosa che non ci si aspettava e che non si capisce bene che cos'è. Viene fuori una necropoli, una necropoli, cioè un insieme di sepolture, definite in questo specifico caso sepolture a pozzetto perché? Perché sono dei buchi, dei veri e propri pozzetti scavati nel terreno, all'interno vengono trovati dei grossi contenitori d'argilla, alcuni coperti con delle lastre e che a loro volta all'interno contenevano dei recipienti più piccoli con le ceneri e in alcuni casi i corredi di defunti. Quella che vi ho messo in evidenza nella foto, nella immagine in basso, è la mia preferita e vedete era sistemata nel gruppo di quattro e quella circondata in rosso, quindi era proprio una necropoli, erano più sepolture tutte insieme. Quella che vi ho messo appunto è questa urna cineraria, che è molto particolare, molto particolare perché prima di tutto è decorata, se osservate con attenzione c'è una decorazione geometrica graffita, cioè la superficie dell'argilla veniva graffiata e poi in cottura questi segni rimanevano, alcuni archeologi hanno interpretato addirittura il disegno del coperchio come stilizzazioni umane, come prime stilizzazioni umane e l'altra cosa interessante era il corredo, vedete c'è un oggetto accanto, quel corredo lì, quell'oggetto è una fuseruola da telaio, c'era un peso da telaio, anch'esso decorata incisione. Bene, un peso da telaio è proprio una caratteristica di una sepoltura femminile, quindi gli archeologi hanno detto e hanno capito che erano di fronte a una urna cineraria di una donna. L'altra cosa molto interessante di questo oggetto è che ricorda moltissimo un oggetto di uso quotidiano, cioè un recipiente per l'acqua. Infatti quello che voleva essere richiamato era proprio un recipiente per l'acqua molto ampio con la sua ciotolina rovesciata che serviva appunto per versarci l'acqua dal contenitore per altri usi e questa ciotolina è usata come un tappo. Ma la cosa ancora più affascinante è che questa ceramica, questo contenitore per l'acqua presenta una sola ansia, un solo manico ed è una cosa che insomma è un po' strana perché tutte le ceramiche d'uso, soprattutto contenitori per l'acqua, hanno sempre due ansie, anche per comodità, cercate di immaginarvi se è possibile trasportare un contenitore con dentro dell'acqua piuttosto grande, solo con un'ansa. E quindi gli archeologi hanno iniziato a farsi la domanda del perché. Anche perché nello stesso sito, in altre sepolture, si trovavano i contenitori, quelli che vedete nella foto in altro, quei contenitori che avevano sì due ansie, ma una delle due era spezzata. Di proposito, non per giacitura si dice, non perché è stata per millenni sottoterra, ma proprio di proposito. E qui invece l'urna cineraria ne presenta una. Come mai ci sono chiesti gli archeologi? La risposta è che si voleva segnare proprio uno strappo definitivo tra la vita e la morte. Quindi un oggetto che fino a quel momento aveva avuto un uso nella vita normale, nella vita quotidiana, nel momento della morte del congiunto, l'ansa veniva spezzata perché quell'oggetto aveva perso completamente la sua funzione, proprio a marcare questo passaggio. Si ipotizza che i corredi, in questo caso la fuseruola, fossero inseriti in queste sepolture perché, prima per identificare, dare un'identità, cioè chi rimaneva, il vivo, voleva dare un'identità a questa persona che non c'era più. Ma anche perché probabilmente si riteneva che dopo la morte ci fosse una seconda vita e che quegli oggetti potessero servire al defunto. Le donne, soprattutto sono state usate in alcuni siti proprio tessuti, le donne tessevano e quindi questo oggetto li poteva essere utile a questa persona. Ma la domanda principale era per gli archeologi del tempo, parlo di chi appunto durante quegli scavi della fine dell'Ottocento trova queste ceramiche. Bene, chi sono questi uomini che sono stati sepolti qua? A chi appartenevano quindi queste sepolture? Questa è una domanda che si sono posti. E si inizia a fare dei confronti, si cerca di capire se questo tipo di ceramica è stato ritrovato, questo tipo di sepoltura e di ceramiche come urna scenerale è stata ritrovata in altri posti. E qui si innesca tutto un grande dibattito storico, perché in realtà sempre più o meno qualche anno prima, nel 1853, un nobile, un conte, Giovanni Gozzadini, proprio nella sua tenuta aveva iniziato degli scavi. Lui era uno studioso, un appassionato di storia, di antichità locale e si dilettava di archeologia. Quindi nelle sue tenute inizia uno scavo. E da questo scavo lui tira fuori una necropoli vastissima, con un altro numero di sepolture a pozzetto esattamente come queste. Le sue tenute erano in un luogo chiamato Villanova, vicino a Bologna. E lui inizia a studiare, questo Gozzadini inizia a studiare questi reperti e inizia a sospettare e a proporre alla comunità di studiosi, di storici del tempo che queste sepolture appartengono agli etruschi. Cioè che questo tipo di sepoltura, queste urne cinerarie, sono le urne cinerarie della popolazione etrusca e che quindi questi uomini erano gli etruschi, niente meno che gli etruschi, si apre un dibattito. Perché si apre un dibattito? Perché qui si innesta un mito che è ancora dura a morire, va detto, perché ancora vengono pubblicati i libri in cui si dice che gli etruschi vengono da un altro posto, che non stavano qui ma che a un certo punto sono arrivati. Ma la realtà non è questa. Questo mito, cioè il mito degli erogini del popolo etrusco, è legato alla storiografia antica. C'era uno storico greco, Erodoto, che narrava di una, nel quinto secolo avanti Cristo, narrava di una migrazione di un popolo che appunto dall'Asia minore si era spostato in massa verso le terre umbre. Erodoto, quando scrive, racconta questo, e io ve lo leggo questo perché è un affascinante leggere anche quello che raccontano gli storici antichi. Sentite che cosa scrive. Chiama questa popolazione Lidi e dice i Lidi affermano che contemporaneamente fu da loro colonizzata la Tirrenia, dando questa versione dei fatti. Poiché la carestia non diminuiva, anzi infuriava ancora di più, il re, divisi in due gruppi tutti i Lidi, ne sorteggiò uno per rimanere, l'altro per emigrare dal paese e a quello dei gruppi cui toccava di restare li mise a capo lui stesso come il re. All'altro che se ne andava pose a capo suo figlio che aveva nome Tirreno. Quelli di loro che ebbero in sorte di partire dal paese scesero a Smirn e costruirono navi e posti su di esse tutti gli oggetti che erano loro utili si misero in mare alla ricerca di mezzi di sostentamento e di terra finché oltrepassati molti popoli giunsero al paese degli Umbri, dove costruirono città e abitano tuttora. Ma il luogo di Lidi mutarono il nome prendendolo dal figlio del re che li guidava e si chiamarono Tirreni. Ecco, questo è il mito, è il mito di un popolo che dall'Asia minore migra verso l'Etruria. È un po' voler cercare una spiegazione di un'origine, cioè che gli etruschi devono originare per forza da qualcos'altro e invece sarebbe il caso di iniziare a pensare a una formazione, non a un'origine, nel senso che quando si parla di un popolo è come, vi faccio l'esempio, se parliamo per esempio dei siciliani, ok? E vogliamo per forza trovare un'origine esterna di questa popolazione, ma in realtà i siciliani sono sempre stati lì, ma essendo per esempio la Sicilia in mezzo, un'isola in mezzo al mare, è stata contaminata da tantissime e ricchissime culture, in Sicilia sono passati i greci, i cartaginesi, sono passati gli arabi, la ricchezza della civiltà siciliana è data dall'arrivo di tante persone, ma la popolazione siciliana è sempre stata lì ed è stata influenzata in tanti modi diversi, quindi non si deve parlare di origine, si deve cercare di smettere di trovare sempre una spiegazione alla storia della civiltà etrusca come qualcosa che viene da fuori, ma bisogna pensare a una formazione di popoli che lì vivevano e da sempre, da appunto il nono, almeno dal primo millennio avanti Cristo. Tornando a Firenze, un passaggio successivo che viene fatto dagli archeologi è stato quello di trovare dei bronzetti, sempre nel centro storico di Firenze, nell'area di Orsanmichele e poi anche nell'area di Piazza della Signoria. Premetto che una grande quesito che si ponevano gli storici fin dall'antichità è se appunto nella valle dell'Arno esistesse o meno una città o se si trattasse semplicemente di un centro commerciale, di un porto fluviale utilizzato dagli agli etruschi di Fiesole. E questa è stata una domanda che si sono sempre posti gli storici nel 200, nel 1200 si sapeva di Fiesole ma su Firenze si sapeva solo l'origine romana. E andando avanti nelle ricerche appunto, vi ho fatto vedere le sepolture a Pozzetto con le urnicine rari, ma appunto negli scavi di quegli anni viene fuori anche altro materiale. In questo caso vi ho messo delle foto di alcuni bronzetti votivi che erano degli ex voto, cioè venivano depositati, erano piccole statuette in bronzo, affigurazione umana, che venivano deposte in prossimità di santuari o luoghi di importanza religiosa. E questi provengono da due luoghi sempre del centro storico, sono una statuetta di una figura femminile, quella in alto a sinistra, datata VIII-VII secolo a.C. e poi sotto c'è la figuretta di un maschile datata sempre VIII-VII secolo e proviene dal San Michele. Quello che ancora più stupì è il ritrovamento, questo però non più in epoca ottocentesca, ma negli scavi di piazza della Signoria degli primi anni 90, questo bronzetto che rappresenta un guerriero, se lo osservate ha un elmo, ha un gonnellino, quindi probabilmente si tratta di una tunica, ed è in una posizione abbastanza chiara, cioè con il braccio destro, probabilmente tiene una lancia, impugna una lancia e con il braccio sidisto si difende con uno scudo. Chi era questo personaggio? Poteva trattarsi della divinità della guerra etrusca, etrusco, che si chiamava Laran, cioè il Marte Etrusco. Bene, quindi abbiamo visto un'area sepolcrale e un insieme di bronzetti che, come vi ho detto, stavano sempre in prossimità di santuari o luoghi di importanza religiosa. Quindi a Firenze, prima dei Romani, che sembrava non ci fosse niente, in realtà si viene a scoprire un sacco di cose. Una sepolcreto, probabilmente la presenza di un santuario e poi qui viene una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni, perché questo è uno scavo archeologico del 2010-2011 dell'Università di Firenze. E' uno scavo che è stato fatto in via nazionale dove c'era il Cinema Pollo, adesso c'è un albergo nella ristrutturazione del cinema per la costruzione dell'albergo. Ecco che a un certo punto iniziano a emergere durante i lavori, gli operai iniziano a trovare ceramica, tantissima ceramica, a quel punto si chiamano gli archeologi, che iniziano a fare uno scavo accuratissimo di tutta l'aria. E che cosa trovano? La prima cosa che trovano è sul terreno questa macchia rossa. Guardate l'immagine in alto a sinistra, è semplicemente un'area rossa circolare nel terreno. Bene, quando un archeologo trova una macchia rossa circolare nel terreno non ha quasi mai dubbi, perché quello è un segno del fuoco e quindi si tratta di fornace per forza. E infatti inizia lo scavo, guardate la foto subito sotto, si inizia a scavare quest'area rossa e iniziano a emergere ancora frammenti ceramici. Questa era una fornace, una fornace verticale, vi ho messo un esempio di una fornace verticale nell'immagine in alto a destra, vedete come venivano impilati tutti gli oggetti all'interno e poi appunto con il fuoco venivano cotte queste ceramiche. E quindi questo scavo va avanti e arriva a portare in luce un numero altissimo di fornaci, sono state rinvenute 11 diverse fornaci di varie fasi diverse e si è iniziato a chiedere che cosa veniva prodotto in queste fornaci. Venivano prodotti due tipologie di ceramiche, una era costituita da grandissimi vasi per alimenti, quindi erano contenitori per alimenti e poi la cosa più interessante è che venivano costruiti dei laterizi a copertura dei tetti, guardate la foto in bassa a destra, è stata utilizzata la fotografia di un altro sito a Marzabotto, però la tipologia di ceramiche rinvenute appunto in via nazionale è identica, quindi erano coppi e pianelle per coprire i tetti e si sapeva che i tetti coperti con laterizi sono soltanto a partire dal VI secolo a.C. e che erano utilizzati soprattutto, anzi esclusivamente per le case di un ceto sociale medio alto. Quindi come fa l'archeologo poi? Alla fine mette insieme tutti i pezzi e cerca di dare un'interpretazione di tutto quello che finora vi ho presentato e che finora era stato trovato, quindi cosa abbiamo trovato? Un'area sepolcrale con diverse sepolture, solo in quel punto lì erano sette, poi ce n'erano altre nella zona, poi sono stati trovati dei bronzetti ex voto che erano ovviamente ex voto portati in santuari o in templi, quindi c'era anche un'area religiosa. E poi una fornace, anzi non una fornace, ma un'area produttiva nella zona di via nazionale. Questi tre elementi fanno sì che si possa a questo punto ipotizzare concretamente il fatto che a Firenze, prima della città romana, ci fosse un'altra città, che era una città etrusca. C'è un'area religiosa, c'è una necropoli, c'è un'area produttiva, quindi non si tratta più dell'ipotesi che veniva fatta nel 200, ma anche successivamente che sul fiume sì c'era un polo commerciale, un porto fluviale usato dalle etruschi di Fiesole. Invece no, invece qui c'era un abitato stabile, una vera e propria città addirittura con una popolazione che era suddivisa in fasce sociali, perché c'era sicuramente una società di lavoratori, quelli che lavoravano nelle fornaci, c'era sicuramente un strato sociale elevato che poteva permettersi di avere case costruite con tetti in laterizio, c'erano probabilmente tutta una serie di persone che si dedicavano ai santuari e ai templi, quindi insomma una città più o meno di media grandezza e molto strutturata. questa città, secondo uno studioso antico, non tanto antico scusate, secondo uno studioso, lui era uno studioso di linguistica e riteneva che questa città antica etrusca avesse pure un nome che si chiamasse Birent o Birens e che secondo lui questa parola Birent significava terra tra le acque e queste acque erano il Mugnone e l'Africo. Ora questa era una delle ipotesi sul nome e qui nasce l'altro grande mito sul nome di Firenze, da dove viene il nome di Firenze? C'è chi dice è legato ai ludi florales, cioè a queste festività in onore di flora che erano celebrate nell'antica Roma o che appunto questa fondazione della città romana fosse avvenuta durante questi riti e queste celebrazioni dei ludi florales. Un'altra meravigliosa leggente affascinante è quella che lega il nome della città a un tal Fiorino, che altri non era, che è un capo di una guarnigione di epoca romana. C'è la leggenda che è legata a una guerra contro Catilina, ora questo ve la riassumo velocemente, però Catilina chi era? Era un personaggio importante di Firenze durante la Repubblica, di Roma scusate, durante la Repubblica, Lucio Cornelio Silla, che a un certo punto si candida al Senato per portare avanti le istanze e le richieste del popolo e vuole essere candidato perché vuole sovvertire un po' questo sistema politico della Repubblica romana, corrotta con tutti questi senatori corrotti, però viene sconfitto da Cicerone e quindi non diventerà mai un senatore. Però ormai aveva aizzato le folle il popolo ed è costretta a scappare e si rifugia a Fiesole, che era una sua alleata. Soltanto che a quel punto da Roma partono le guarnigioni alla ricerca di Catilina, che deve essere eliminato. Una delle guarnigioni che accerchia la città di Fiesole è capeggiata e condotta da questo capitano che si chiamava Fiorino, il quale venne ucciso a un certo punto in battaglia. Bene, alla fine ovviamente i romani vincono contro l'etrusca Fiesole e nel luogo in cui si trovavano le truppe di Fiorino viene costruita la città di Firenze. E questo è un altro mito del nome Firenze, ma la realtà è solo una ed è legata appunto al nome Florenzia. Il professore della Crusca ha un po' sciolto ogni dubbio. Firenze, Florenzia, di epoca romana, è un tipico nome aurale, nel senso che Florenzia deriva da un verbo latino che è florere e che vuol dire fiorire. E quindi è un nome augurale. Si diede questo nome. Qui io vi ho messo l'ultima diapositiva perché riguarda sempre la piazza di cui abbiamo parlato prima, cioè Piazza della Repubblica e quello che c'era dopo gli Etruschi a questo punto. Dopo gli Etruschi nella piazza della Repubblica non c'era più la necropoli etrusca, ma c'era il Tempio romano. Un tempio che è stato ricostruito virtualmente dagli archeologi perché sono state ritrovate le colonne, perché sono state ritrovate alcune statue e quindi è stato possibile ricostruire sia il punto dove poteva essere che anche la forma e alcune decorazioni. Per inciso vi sottolineo il fatto che a Firenze abbiamo una via del Campidoglio, scusate, che è proprio parallelo alla piazza della Repubblica, che ricorda il luogo dove si trovava il Tempio di epoca romana. Ma qui forse mi fermo perché qui si aprirebbe tutta un'altra grandissima storia che è quella invece della Florenzia romana, ma qui siamo già a Firenze come città e quindi non ci riguarda. Allora, io vi ringrazio e sono qui per voi, nel senso se avete qualche domanda o qualche curiosità io provo a rispondere. Chiara, io rigiro la palla a te, dimmi un po'. Dalla chat per ora non vengono domande, quindi nel frattempo mentre loro pensano io volevo farti una domanda. Ormai ci siamo un po' appassionati durante questi binoculus alle varie fake news che circolano su tante questioni e quella degli etruschi è uno degli altri temi che appassionano moltissimo tutto un diciamo un filone complottista o perlomeno così suggestionato da idee addirittura degli alieni, si parla di cose anche molto a volte estreme. Il linguaggio, l'alfabeto più che linguaggio è degli etruschi. È vero che non è mai stato tradotto, che non è un mistero oppure anche questo non è così fondata come notizia? No, non è affatto fondata ed è un'altra grande mitologia costruita intorno all'immaginario etrusco. Tra l'altro c'è anche un motivo probabilmente per tutta questa serie di fake sugli etruschi tipo che venivano dall'Oriente, che avevano un alfabeto sconosciuto che non è mai stato prodotto.